A pochi chilometri dal circuito di Silverstone c'è questo piccolo cottage, guardate, di mattoncini inglesi e qui dentro è una piccola cassaforte. Mark è uno dei due fratelli insieme a Keith, proprietario di questo tesoro. È una storia lunga, magari per 30 anni siamo in Formula 1, mio fratello e io, abbiamo la compagnia di Suttin' Images. Iniziamo in 1980, mio fratello è stato un fotografo professionale e in 1981 ha metto Ayrton Senna. In la seconda rata Ayrton ha detto a lui, per favore, ho visto che tu faci fotografi, ho bisogno delle fotografie, ho bisogno delle fotografie, ho bisogno di pubblicità. E poi questa rata è stata sentita. La big lucky per il tuo fratello. Sì, è vero, è vero, ma questo rata è stato il primo gioco in una singole santa car. In l'archivio, in l'office, abbiamo 4 milioni di fotografie, con color, tranzapire, black e white e ora, ovviamente, digital. Ci sono tutti in l'archivio, abbiamo 165 cabinets, come si prendono la città, si vedono le fotografie, si vedono le fotografie, e guardano. È l'ultima stessa, ma ora è completamente cambiata. Alla prossima, grazie. Alla prossima, grazie. Grazie a tutti, abbiamo fatto questo per 15 anni qui. La ragazza che veniamo qui è come il motore sport valley, si chiamano la città. Abbiamo la città di India, Mercedes, McLaren, Williams. Tutti i team sono molto vicini. Molte, molte proprietà di motore sport qui è qui. E' di questo motivo siamo qui. In Silverstone, la più famosa picture, che ho amato la più, Nigel Mansell vanno la rata, ma Ayrton Senna, è stato fatto il rata, come si chiamano la città. E ora, credo, è principalmente illegal per il driver a fare questo. Quindi, abbiamo l'archivio, qui è tornato dal 1960 al 2013. So, 53 anni di Formula 1. I come in here sometimes and just find the nice photos and remember the history. It's very nice.